Segneremo anche un bello spettacolo tetrale, lo facciamo sempre, spesso, nella nostra trasmissione. Allora la rondine, la canzone di Maria, al Teatro Bellini di Napoli, fino a domenica. Poi andrà anche a Trieste, a Brescia, in tante altre località. Lucia Sardo ne è protagonista. È un testo che è ispirato anche questo ad un attacco terroristico. Quello al Bar Gay di Orlando, negli Stati Uniti, nel giugno 2016, morirono 49 persone, ma anche altri attacchi come il Bataclan, eccetera. È un testo considerato rivoluzionario. Perché? Rivoluzionario perché non parla di rivoluzione, ma parla di sentimenti, parla di emozioni. E quando cominciamo a trattare quelle cose lì, quella è in materia incandescente. E finché gli esseri umani si occupano della parte superiore e non della radice dei problemi, noi non risolveremo mai. Assumirlo è stato un gruppo membri. La rivoluzione è questa, andare alla radice del problema. Quindi la radice qual è? Riconoscersi come esseri umani. Marta, non è la canzone di Maria, ma è la canzone di Marta. Marta dice a un certo punto dello spettacolo che cos'è che ci rende realmente umani. Il mio giovanissimo collega, il bravissimo Luigi Tabita, mi risponde ci rende umani l'amore. Dico no, anche loro, anche i terroristi amano. La cosa che ci rende veramente umani è il dolore. È il riconoscere come proprio il dolore degli altri. Finché non riusciamo ad avere questa empatia, la politica farà ben poco. Benissimo, grazie a Lucia Sardo. Andate al Teatro Bellini di Napoli, fino a domenica c'è. Sì, fino a domenica è un incontro o scontro fra questi due personaggi, ma c'è un lieto fine. Questo lo posso aggiungere perché è uno spettacolo pieno di colpi di scena, quindi non si può raccontare la trama, però vi rassicuro che finisce bene. Quando gli esseri umani si guardano negli occhi, e provato scientificamente questo, si cominciano a comprendere. Bisogna guardarsi negli occhi, molto di più. È un grande, è un grande suggerimento, così come è un grande suggerimento quello di leggere bene.